In questa collezione si trova una bustina di legami inossidabili da cui è possibile pullare la costosissima carta Reshiram e Charizard GX Hyper dal valore di 200€ La troveremo? Magari! All'interno troviamo Bello mio! La promo di Trevenant Dusk Noir GX, bellissima E i nostri 4 pacchettini di Sole e Luna Iniziamo da quello meno interessante Gumi Reverse E che cos'è? Uh! Vigavolt GX Full Art! Bene, bene! Sintonia mentale Necrozma Reverse E Among Us, raro non olo Ma perché? Ancora sintonia Goom Shoes Reverse Liepard non olo Ma che ho fatto di male? O la va, o la spacca Mastro carta dell'Ultraforesta Reverse Ed infine Blasephalon raro Ma perché le carte migliori sempre nell'espansione peggiore? Non lo capisco Seguimi Per non perderti l'unboxing Per non perderti l'unboxing Grazie a tutti.